Buongiorno professore, sappiamo che la sindrome premestruale colpisce più del 70% delle donne italiane. Esiste oggi una definizione precisa della sindrome accettata scientificamente? Detto così, il 70% delle donne italiane sarebbe un'epidemia, una tragedia. Diciamo che esiste una definizione scientifica, certo, anche perché poi ci sono dei criteri diagnostici, e che bisogna un po' scindere il concetto di sindrome in quanto malattia, in quanto disturbo che affligge perennemente o ciclicamente delle persone, rispetto ad un qualche cosa che può essere ogni tanto disturbante. Quindi sicuramente il 70%, ma probabilmente anche di più, delle donne italiane accusa dei sintomi premestruali, mal di testa, gonfiore, eccetera. Poi il fatto che diventi un disagio vero e proprio, quindi richieda comunque un trattamento, comunque un aiuto, una spiegazione, eccetera, è un pochettino inferiore per fortuna. Sicuramente intorno al 50, 40, 50% di donne che in qualche modo ogni mese sentono qualche cosa a modificarsi nel proprio corpo e nella propria mente. E quindi la definizione di cui mi parlava? Sì, la definizione è che questi sintomi devono essere presenti alcuni giorni prima del ciclo mestruale, in genere una settimana prima, ma si può anche allargare questo periodo più a lungo, verso le due settimane, ma insomma normalmente, fisiologicamente è così, e soprattutto devono sparire con il primo giorno di flusso mestruale, questo di sicuro. Quindi ci deve essere un periodo di sofferenza che è relativo proprio al periodo premestruale, un periodo di benessere totale, che è quello poi dalle mestruazioni fino almeno alla metà del ciclo successivo e poi ciclicamente ritornare questo disagio che comincia alcuni giorni prima o può cominciare anche 7-10 giorni prima dell'arrivo del ciclo mestruale stesso. Grazie. 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 Grazie.